L'outsider Rodolfo Hernandez si è imposto con una campagna social e ha conquistato un posto al ballottaggio per le presidenziali in Colombia. Il 19 giugno sfiderà il senatore ed ex guerrigliero Gustavo Petro in una sfida dall'esito incerto. L'imprenditore 77enne che si definisce il re di TikTok è stato sindaco di Bucaramanga e ha fatto della lotta alla corruzione il punto principale della sua campagna elettorale e del suo programma. Populista e conservatore, si è però candidato come indipendente. Durante tutta la campagna elettorale ha più volte ribadito di essere un uomo del popolo e ha usato i social per comunicare, scegliendo di non partecipare ad alcuni dibattiti televisivi con gli altri candidati. Non fa discorsi strutturati, non sa sviluppare idee complesse e proposte, non ne ha la capacità o perlomeno non gli abbiamo mai visto sostenere una proposta, però balla e diverte e questo sembra piaccia alla gente, spiega il professor Danny Ramirez dell'Università e Rosario. Icona dell'anti-establishment per molti è la versione colombiana di Trump, ma è anche molto simile a Bolsonaro e Boris Johnson. Grazie ai suoi video su TikTok i suoi follower hanno superato il mezzo milione mentre i suoi post hanno registrato più di 4 milioni di mi piace.